e ciao ragazzi di questo discorso veroso oggi sono qua sul canale perchè voglio fare un video dove parliamo di Nulls Brawl perchè per chi non lo sapesse è stato eliminato Nulls Brawl qui abbiamo 177 gemme, non è perchè questa è 177 gemme, per chi non lo sapesse chiudo Nulls così vi faccio vedere come si fa come si fa ad ottenere queste 177 gemme, tra l'altro ho detto Nulls ma volevo dire Clash Mini, si apre Clash Mini per avere queste gemme dovete avere speso un minimo su Clash Mini, quindi si apre Clash Mini aspettiamo che si apra, se si vuole aprire, andate sui tre sbarrette, impostazioni, aiuto e supporto andate in alto a destra, manda un messaggio e poi vi scriverà hello, sarà già tutto fatto ok, quindi questo è tutto da solo, poi provate da solo praticamente il telefono, la Supercell poi trasforma, cioè c'è già l'apre impostato, voi potete decidere quale schiacciare quindi dovete schiacciare questo qua, mettete il gioco dove volete mandarli può esserci Clash Royale, World Stars, tu giochi Supercell, vi chiedono il codice, il vostro ID vi chiedono di mandarlo ancora e infine vi dicono che è arrivato io pensavo che ci mettessero 10-5 minuti e invece gli si chiedono 3 secondi quindi andiamo a scattare queste 177 gemme, devo preoccuparmi, per sicurezza, chiudiamo arriviamo al gioco, ok, si senza aprire cose che non vorrei aprire, ecco, vediamo se ce lo fa aprire, ok, abbiamo 250 gemme, 250 gemme molto molto buone, che forse è ricorda che abbia mai avuto, è proprio una scusa a comprarci ragazzi, quello è il problema, potrei una skin mitica, ci potrebbe stare, ma niente di che, forse il bro il più sbroccato è anche quindi prenderò subito quella skin, come cazzo, però non si scherza, no però non ci sono skin che mi piacciono, preferirei prendere più, mi ha laggato il gioco, preferirei prendere più skin io avrei intenzione di prendere questa skin, però 49 gemme, cavolo, è fattibile, ecco proverò magari a vincere l'anidio di Crax e di Fer, adesso vediamo un pochettino come funziona se non la vinco magari ci penserò un pochettino sopra, quindi niente, devi fare qualche game ma andiamo un po' di cordeo, ci facciamo un bel cordeo, so 14 magari se riusciamo comunque è veramente una cosa molto sensata, magari per la figuraccia, ecco, le veritate anche un po' di più, lobby bot, dovrei avere la streak, no non ho la streak, perché se c'è lobby bot, mi avevo perso un po' troppa volta di fila, tranquilli che perderò ancora, ok no, ho preso 8 anni di vita, 8 anni di poco, quindi abbiamo 7 power up da prenderci, cioè altri da prendere, una hands dei fiammi che non è che sia così brutta proprio, ecco, bello, cioè è piena di power up, stiamo un po' veramente, quindi, allora un bombardino, eh no, sempre solo il power up, cattivo, 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 se c'è già 9 power up, andiamo a prendere il decimo, per raggiungere i 15 power up, ciò possiamo fare dai, faccio tipo 5000 hit, andiamo a prenderci questo piccolo Leon, 13, mancano solo 2 power up, 1 in altra sinistra, sperando che non ce l'abbia rubato, il nemico, eccolo la, abbiamo una rosa, invece ce l'abbia rubato il nemico, si deve tanto caso, non c'è 3 mili di danno a hit, comunque ce l'avremmo fatto, se ci pavamo rap avremmo preso, se eravamo attaccati attaccati, quindi, abbiamo la streak, faccio un altro po' di danni così, riusciamo a spiegare anche uno star drop, almeno la quinta posizione, ce la possiamo fare, preferirei la quarta per portarla ancora un po' più di sopra, ovviamente, c'è, odio la preposizione, no, assolutamente no, però, cerchiamo magari di non portarla 14 preciso, 260 preciso, ok, c'è una rosa, una tara, uno squeak, una lola, mi faccio ci due, mi sento un po' in colpa, ecco, ok, niente, questo è già quattordici, già al, azz, brutto, passare niente, eh, 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 nell'ultimo, ma questo è perso, eh, comunque quarta posizione, no, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, scappare, poi fa niente, prendo il power up, mi prendo altri power up, la mec, eh, ops, ragazzi, vabbè, niente, va bene, va bene, intanto, vabbè, mi importanti era il terzo, il quinto posto, Eccolo qua, 14, dai pochissimi danni Niente Se abbiamo comunque sbloccato uno star drop No Quindi ci facciamo un altro match con Cordelius Magari non in questi Ma in modo bella ricerca Andiamo sempre qua Perché sì, devo portarlo A 4.000 coppie Cordelius Un obiettivo Mi fa vedere la cosa di dirlo Dovevo fare solo un pochettino di danni Lo metto 7 diamanti contando anche me E un po' di non classificati Mi pare, 3, 2, non classificati Allora, 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 allora Io starei un pochettino Devo pusciare, posso anche morire Ma devo pusciare Faccio un po' di porra Così faccio più danno E niente, e niente, che bambino E niente ragazzi Che faccio fare Però in teoria un po' di danno l'abbiamo fatto Ma pochissimo Manca 9.000 danno Speriamo di fare un po' di coppie Qua per recuperare Mi pare il meno 3 di adesso Quindi, allora, ok Allora, come siamo messi Come provo Le progare me la botto Non sono triste, ecco Ok Due miti Un bronzo Quattro Diamanti E due ore per Non classificato O non Ma perdo guarda Ok In teoria Siamo a metà di quello Che dobbiamo fare adesso Quindi Prendiamoci con questi 5 star Power up Sì, se c'è un star drop Ok Allora C'è un cordellus Sieme a me Con la skin Bella qua che volevo io Lui non può andare di super No No Niente 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 Guardate per quanto Lo lascia Eh Comunque L'abbiamo fatta I danni Cioè Guardate per quanto Vi trovo lo lasciato Vabbè Dettagli Se vuole venire qua Non sono mica triste io Vieni 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 cucciolata Vieni cucciolata Vieni cucciolata Godo 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 Ah C'è la star power Niente C'è la star power Vabbè Quinta posizione Niente male Ok Andiamo Con Avevo fatto solamente la missione Erano 7 mila Ho visto male Stato troppo Legendary Parese Perché sono una leggenda Mi arrabbio Niente Quindi Magari andiamo a far Ascioppare qualcosa Con leggenda cosa possiamo prenderci oltre che le skin sai che non è che è così brutta questa skin di sedia sto prendendo il telefono a dettagli e ragazzi questa è la skin ma cosa sto venendo però sinceramente è molto molto bella molto molto bella 70 cm ah no 170 cm non è vero ok sono felice sono molto felice andiamo a vedere come è la skin dove è proprio la se ce l'ho io ce l'ho questa skin wow che bella ragazzi bellissima anche questa 199 cm cavolo oltre anche questa magari ce la scioppiamo non lo so molto molto bella andiamo a darci con la profila di viper lunare dove è che dove è che dove è che eccola qua ragazzi spero che vi sia piaciuto un saluto una scusa verosa ciao raga